La crescita del 2021 e del 2022 ha avuto cifre importanti 6.7, 4.1 e negli ultimi 4 anni il Trentino ha avuto numeri superiore alla media nazionale e anche superiore ad alcune realtà del nord-est. Questo fa sì che noi dobbiamo continuare sul percorso della crescita degli investimenti perché gli investimenti, volta da modernizzare il Trentino, a renderlo più bello, renderlo più funzionale, più accogliente, più moderno, credo che i risultati di questi anni dimostrano che porta con sé anche una crescita economica. Poi questa crescita economica ovviamente fa sì che nel bilancio provinciale ci siano maggiori risorse che però devono essere continuamente investite anche nel rinnovo, per esempio, del contratto del pubblico impiego che è nostra intenzione fare nei prossimi mesi per venire incontro alle difficoltà e all'appesante momento del costo della vita dei cittadini, così come l'inalzamento a 25.000 euro della soglia di esenzione dell'addizionale regionale all'IRPEF che sostanzialmente viene garantita per gli anni a venire.